È tutto così perfetto. Viviamo in un posto magnifico. Adoro questa vita. 13 gol al Cavalio United che era nettamente indietro, 11 reti alla formazione Berretti, che a sua volta è riuscita a segnarne una. La cavese di mister Francesco Moriero si è dimostrata abbastanza infiducia nell'applicazione degli schemi sul terreno di gioco di Sturno e il tecnico Salentino per ora sembra voler dare continuità rispetto al 4-3-3 già proposto dal vecchio allenatore della scorsa stagione. Ovviamente cambiano le funzioni di alcuni giocatori in determinati ruoli e il modo di attaccare. La reale consistenza di questa cavese andrà verificata al cospetto di avversari più impegnativi. Contro lo United, che non era neanche nella migliore formazione, la squadra di Moriero ha messo a segno 13 reti. Nel primo tempo due reti riassegnate Sainz-Massa, una Eluazni. Poi nei due mini tempi successivi hanno realizzato tre gol Stranges, due gol Hitli e uno a testa per Vekic, De Rosa, Addessi, Ferreira-Carrasco, Nunziante e Marzupio. La squadra bianco-blu inizialmente si è schierata con il 4-3-3, con i tre attaccanti Di Roberto, Eluazni e Sainz-Massa, i centrocampisti Matera, Lulli e Favasuli, i difensori Spaltro, Matino, Marzoratti e Galfano, tutti davanti al portiere Cucic. Contro la Berretti invece gli undici gol sono stati realizzati da Di Roberto, Sainz-Massa, Doppietta, Eluazni, Flores Hitli, De Rosa e cinque gol personali per Addessi, mentre Cozzolino ha realizzato l'unico gol per la Berretti. In base a quanto si è visto, i bianco-blu hanno cercato la superiorità numerica sugli esterni, tenendo la palla manovrata a terra, producendo parecchie occasioni da gol e più sporadicamente si sono affidati ai palloni alti. Russotto, il fantasista ancora corto di preparazione, ha bisogno di allenarsi parecchio per mettersi al passo con i compagni. Dopo i due test dello scorso weekend, i metelliani effettueranno un altro allenamento congiunto mercoledì, sempre al campo sportivo il Castagneto di Sturno con la Pro San Giorgese e venerdì ci sarà l'equipe Campania AIC di Antonio Trovato. Oggi il sorteggio per la Coppa Italia. Altre di C, la casertana ha già alle spalle una settimana di allenamento e sul campo di Roccaraso, mister Ciro Ginestra ha visto i giocatori all'opera in un primo test con il Castel di Sangoro, terminato 7-0 per i Falchetti, con reti di Longo, Starita, Lezzi, Adamo, Cavallini, Caldore e Castaldo. Ginestra ha bozzato un 4-3-3, con questi 11 inizialmente in campo, Crispino, Rainone e Gonzales, Lamè, Santoro e Longo, Matese, Larebbi, Origlia, Starita e Zaccaro. Gigi Castaldo si è visto nel secondo tempo, così come si è visto anche l'ultimo acquisto Cavallini, che è un esterno offensivo. L'Avellino è momentaneamente fermo e il centrocampista camerunense Kelvin Matute, che pure aveva dato priorità al club Irpino, ha aspettato in vano una chiamata e alla fine ha deciso di accordarsi con il Taranto, che diventa quindi la compagine favorita per salire dalla Serie D alla C, avendo già preso diversi calciatori significativi. Due cordate imprenditoriali si sarebbero dichiarate interessate a rilevare le quote del club Irpino. La Paganese, riammessa in C nei giorni scorsi, ha invece svolto la presentazione alla stampa qualche giorno fa. Il presidente Trapani ha invitato i tifosi a sottoscrivere numerosi l'abbonamento per la stagione calcistica 2019-2020. Il sindaco di Pagani Gambino, che era presente anche egli in quell'occasione, ha promesso invece imponenti opere di ammodernamento dello stadio Torre, in aggiunta a quanto realizzato in vista dell'Universiade appena conclusa.